Se ogni strumento, per un qualche comando, per una capacità di presentire, potesse compiere la sua propria opera, come dicono che facessero le statue di Dedalo, i tripodi di Efesto, dei quali il poeta dice che da soli entrano nel divino consesso, se a questo modo le spole da sole tessessero i plettri, suonassero da sé, allora né gli architetti avrebbero bisogno di operai, né i padroni di schiavi. La rappresentazione dell'automato di Dio, cioè quella fantasia utopica della generazione spontanea, del movimento automatico degli oggetti che si vede di norma al concilio di vita autonoma, quale è descritto da Aristotele in questo celebre passo del primo libro della politica, vanta nella letteratura greca molti antecedenti letterali. Facci pensare, ne abbiamo sentito parlare negli ultimi giorni e anche oggi, facci pensare appunto all'estato e annato, costruite da Dedalo, di cui parla Platone nel Menone, ai tripodi alati degli automatoi, appunto semoventi della cucina di effetto, ai mantici di effetto che all'ordine del figlio socchiano sulle fornaci, alle ancelle robot, alle dorate ancelle robot di effetto, insomma, delle vere proprie stati animate, ma di certini e vere conciuglie, tutte queste vengono descritte nel diciottesimo, intanto nell'Ingere, quando viene rispetta la cucina appunto del fabbro che sta costruendo le nuove armi per la fila dopo la morte di casa, e queste conciuglie, diciamo, perché le robot sostengono un ciancato per un effetto. Oppure basti pensare ad altri esempi di vita autonoma degli oggetti come i cani metallici, per esempio, che custodiscono il palazzo di Alcino nell'Odissea, nel settimo libro dell'Odissea, anch'essi appunto costruiti da Efesto, o le navi magiche dei Feaci, senza nocchieri, senza timoni che volano, diciamo, sull'acqua, insomma, di antecedenti letterari ce ne sono tanti, ma tra gli antecedenti letterari più illustri di questo tema dell'Automatos Bios, che sono ovviamente ben presenti ad Aristotele, vanno annoverati quelli presenti, quelli attestati dalla cosiddetta Arcaia, cioè da una peculiare forma di commedie che furono portate in scena a teatro ad Atene tra la seconda metà del V e gli inizi del IV secolo avanti Cristo, da Aristofane, ma anche da molti altri comediografi più anziani di lui o coevi, delle cui commedie però ci sono rimasti soltanto frammenti. Si tratta di commedie che vengono ricondotte a un filone cosiddetto, in realtà impropriamente detto, disimpegnato filone di evasione, che comunque mette sulla scena il paese di Cuccagna, lo Scholaraffenland, il sogno di un'esistenza libera dalle fatiche quotidiane grazie appunto all'automazione degli oggetti, quindi su pellettili semoventi, lusso aveniristico di bagni caldi direttamente a domicilio con profumi, spugne e sandali che giungono da soli presso la vasca da bagno, fiumi di brodo, di salsa che portano vivande succulente direttamente alla bocca dei commensali, focacce che si impassano da sole, pane che piove dal cielo, tordi che volano in bocca ai commensali già arrossiti e pesci che si fanno cuocere da soli. Il brano che ascolteremo ora è uno dei più cospicui e perspicui frammenti di una commedia di un commediografo molto noto, di grande successo nell'Atene della metà del V secolo e tra l'altro molto apprezzato da Aristotele nella poetica Talcratete, la cui commedia è intitolata Teria, cioè le bestie e diciamo contiene, presenta un coro appunto costituito da bestie, cori di animali appunto sono frequenti nella commedia atenese del V secolo che sono portati in scena come esseri dotati di logos, quindi di parola e di raziocinio, quindi diciamo umanizzati e questo è uno dei tratti più vistosi del surrealismo diciamo che connota la commedia antica. Queste bestie rivestivano evidentemente un ruolo importante nell'azione, probabilmente esercitavano un certo potere, avevano anche un certo potere diciamo di forza contratuale anche nei confronti degli uomini, sembra alcuni frammenti che fossero in grado di concedere benefici agli uomini, forse in cambio dell'accettazione di un regime vegetariano da parte loro appunto che li salvaguardasse. Ascoltiamo questo breve frammento comico. E così nessuno avrà schiavi né schiave, ma ognuno, anche se diventato vecchio, dovrà servirsi da solo? Certo che no, perché io renderò semoventi tutti gli oggetti. E quale sarà dunque il vantaggio che gli uomini ne ricaveranno? Ogni utensile verrà da solo non appena lo chiami. Sistemati, tavola, sei tu, imbandisciti da sola. Panierino, preparati a impastare. Versa da bere, mestolo. Dov'è la coppa? Va a lavarti da sola. Lievitati, focaccia. E ora che la pentola scoli le bietole. Pesce, datti una mossa. Ma non sono ancora cotto dall'altro lato. E allora che aspetti a rivoltarti, a cospargerti di sale e ungerti di olio? Questo frammento è tramandato da un passo famoso del stesso libro dei cosiddetti Deipnosofisti di Ateneo, I dotti a banchetto. È una grande opera enciclopedica, una specie di summa dell'erudizione enciclopedica del tardo ellenismo e dell'età imperiale, che è per noi una miniera preziosa perché ci, diciamo, tramanda una serie di testi frammentari che altrimenti, che vengono citati appunto, che altrimenti non avremmo mai, di cui non avremmo mai avuto conoscenza. Ebbene, questi frammenti comici tra i quali appunto è ricompreso questo frammento delle bestie di Cratete, parlano appunto dell'archaios bios, cioè della vita di una volta, quindi diciamo sono incentrati sul tema dell'età dell'oro, dell'utopia gastronomica e non, del paese di Cuccagna, diciamo, il tema è quello del mondo, il carnevalesco, ben noto tema del mondo alla rovescia. Ebbene, il sofista a banchetto, il dotto a banchetto tale Democrito, fa qui riferimento appunto ad alcuni poeti della commedia attica-antica che descrivono la vita di una volta, la vita del buon tempo antico, come esente dalla necessità degli schiavi e appunto cita commedie per noi perdute, tra cui quella da cui appunto è estratto, di cui abbiamo sentito questo frammento e che ho scelto tra i vari frammenti citati dai Deipnosofisti perché è di fatto l'unico che fa espressamente riferimento alla questione della inutilità degli schiavi, anche se in premessa il Deipnosofista afferma che in tutte queste commedie l'automatos bios, cioè la vita autonoma degli oggetti, rende inutile la manodopera servile. E quindi che, diciamo, in queste commedie tutti i personaggi senza distinzione di classe beneficiavano e partecipavano, diciamo, dei piaceri della cuccagna. Ora, in tutti questi frammenti citati in questo famoso passo del sesto libro dei Deipnosofisti di Ateneo, il motivo del paese di cuccagna è inclinato in vario modo, cioè in alcuni casi si tratta di un nostalgico vagheggiamento di paradisi perduti, di un ritorno appunto alle origini, al tempo di una umanità felice che ha vissuto un'età del loro primigenio da cui l'uomo invece poi è decaduto, è stato separato da un evento traumatico, no? E questo, diciamo, è il motivo letterario in genere riconosciuto negli Erga, nelle opere giorni di Esiodo, no? Si parla dell'abbondanza dell'età dell'oro, in cui un tempo appunto il tempo di crono, in cui la terra elargiva copiosamente i frutti e l'uomo non aveva bisogno, diciamo, di lavorarla. E gli uomini vivevano felici, in condizione simile a quella degli dei, in uno stato di beatitudine e immuni da fatiche e sofferenze. In altri casi questo edonistico altrove è ambientato in paesi lontani, tra popoli sconosciuti, reali o leggendari, per esempio la Persia, o anche meno, ancora più reali, più vicini al mondo dei greci, per esempio la colonia panellenica di Turi, di cui si parlava l'altra sera, cioè l'attuale Sibari, quella con cui, diciamo, quella colonia con cui Pericle coronò il suo sogno di espansione di Atene verso l'Occidente. Altre volte questi paesi di Cuccagna sono ambientati persino nell'Oltretomba, cioè una commedia che si intitola I Minatori, appunto, in cui questo Bengodi, diciamo, si trova nell'aldilà, nell'Oltretomba, nel Regno dei Morti. Questo frammento di Cratete si differenzia dagli altri contenuti in questa sezione del stesso libro dei pianosofisti perché è ambientato nel futuro, quindi prospetta, diciamo, una dimensione avveniristica in cui, diciamo, gli oggetti sono semoventi e il lavoro diventa inutile, quindi di fatto non è necessario che, diciamo, si sancisce l'utilità sia del lavoro libero sia del lavoro schiavile. Quindi una prospettiva, diciamo, futuristica rispetto alla quale però va chiarito che, diciamo, che questa prospettiva non viene, diciamo, delineata all'insegna di una improbabile etica egalitaria, evidentemente, ma ha soltanto la funzione di portare alle estreme conseguenze, all'estremo paradosso, la comicità, appunto, dell'Automatos Bios. Quindi è una, diciamo, dimensione prettamente carnevalesca, d'altronde, anche nella vita ateniesi, tra le feste, c'erano delle feste ateniesi, per esempio, i croni, appunto, dedicati a Crono, il padre di Zeus, il mitico padre di Zeus, nel quale viene ambientato, sotto la cui egemonia viene ambientata l'età dell'oro. Nei croni ateniesi si immaginava che, appunto, erano delle feste che si svolgevano ad Atene in cui, appunto, si, temporaneamente, si ripristinava l'uguaglianza primigenia tra gli uomini attraverso il sovvertimento momentaneo dei ruoli tra schiavi e padroni. Addirittura gli schiavi banchettavano con i padroni e i padroni addirittura servivano i loro sottoposti. Ma non c'è nessuna istanza, diciamo, di egualitaria, ecco, diciamo, in questa dimensione prettamente comica. Quindi l'assenza di schiavi sembra effettivamente essere una nota dominante di questo nucleo di commedi di cui noi, purtroppo, abbiamo, soltanto grazie alle citazioni che ci vengono dall'opera di Ateneo, pochi frammenti. In realtà, però, nelle commedie, invece, portatrici di un'utopia più concretamente politica, quindi un altro tipo di commedia, diciamo, utopica che non potremo propriamente definire di evasione, di cui per noi, diciamo, il testo più rappresentativo è rappresentato dalle ecclesi azzuse, cioè dalle donne all'assemblea di Aristofane, che è una commedia, appunto, che noi abbiamo invece per intero, non in frammenti, e con cui, appunto, Aristofane, alla fine degli anni 90 del, alla fine degli anni 90 del IV secolo, quindi all'inizio, diciamo, del IV secolo, portò in scena il programma utopico che troveremo delineato, che troviamo delineato nel quinto libro della Repubblica di Platone, la famosa Callipolis di Platone. Ebbene, in questo tipo di commedia in cui l'utopia è più concretamente politica, il mondo alla rovescia viene calato nella realtà contemporanea, quindi non in un utopico altrove, collocato, diciamo, nell'aldilà o in Persia o in Paradisi Perduti o nell'Eliso, ma appunto nella realtà dell'Atene contemporanea. Ebbene, in questo altro tipo di commedie, diciamo, utopiche, ma in un altro senso, in un'altra eccezione, l'esistenza della schiavitù costituisce un postulato ineludibile, indiscutibile. La trama di questa famosa commedia di Aristofane probabilmente è nota a molti, ma in estrema sintesi, cosa ci dice Aristofane? La politica, la politica ateniese, gestita fino a quel momento dai maschi, ha portato alla città soltanto fallimenti e disfatti e quindi le donne decidono di prendere segretamente in mano il governo per porre fini appunto a questo stato di emergenza, per salvare la città e i suoi cittadini. Il piano delle donne riesce grazie a un colpo di stato che le donne riescono a organizzare travestendosi da uomini. Si travestono da uomini, vanno in assemblea e fanno approvare a maggioranza la risoluzione di affidare gli affari della città appunto a loro, alle donne. Con un grande discorso molto abile dal punto di vista retorico della protagonista, Prassagora, cioè un nome parlante con lei che agisce, opera nella Gorà appunto. Un discorso molto abile perché diciamo fa leva su due poli dialettici a cui il pubblico ateniese è molto sensibile, cioè i temi della novità, cioè il pubblico atenese vuole sentire idee nuove, vuole ridere perché i comediografi portano sulla scena, quando portano sulla scena, idee nuove e originali, ma d'altra parte conservatorismo e innovazione, cioè le donne rivendicano il fatto di avere diritto a prendere il potere, un po' perché insomma si dice che le abbiamo provate tutte, ci manca soltanto che proviamo anche questa per vedere se si può salvare la città affidando il governo alle donne, tema peraltro diciamo anche di grande attualità. Dunque dicevo, un discorso molto abile perché diciamo è basato su questo continuo bilanciamento tra l'istanza di novità, di cambiamento e l'istanza di un ritorno alla tradizione, appunto all'arcaios bios, cioè alla vita di una volta, le donne, Prassagora in questo discorso dice, non fa altro che dire che a noi donne spetta il compito di esercitare il governo della città perché noi facciamo tutto come una volta, os per cai pro tu, cuciniamo come una volta, tessiamo come una volta, lavoriamo come una, facciamo tutto come una volta, quindi c'è una sorta di ritorno al buon tempo antico. Dunque con questo discorso Prassagora che è incaricata dopo la votazione in assemblea, che appunto conferisce le donne il potere di attuarlo, di mettere in pratica e badate bene che questo compito ne viene dato, investe in qualità di strategos, viene nominata strategos per ben due volte. Strategos diciamo è lo stratego, possiamo tradurlo il comandante, ma la cosa simpatica è che Prassagora viene apostrofata non come o strategos, lo stratego, il sostantivo è assolutamente maschile, ma come è strategos la comandante, diremmo noi il nostro dilemma, il presidente del consiglio o la presidente del consiglio. Comunque la strategos espone il suo programma politico e i vantaggi che ne rideriveranno confrontandosi con le obiezioni di suo marito, Dlepiro, che è un nome parlante, colui che invece sta a guardare, diciamo figura recessiva rispetto alla donna d'azione che è Prassagora, Dlepiro che è dapprima scettico, poi sempre più persuaso ed è costretta lei a dialogare, a confrontarsi anche con altri personaggi maschili, per esempio un vicino di casa e anche un altro uomo di nome Cremete, che compare, era già comparso prima in realtà, per fare al marito di Prassagora una sorta di report del discorso con cui Prassagora in assemblea era riuscita a far votare la sua mozione a maggioranza. Ecco il programma politico di Prassagora, tutto ciò che si possiede diverrà di proprietà comune in modo che non vi siano in futuro poveri e ricchi, le condizioni di vita diverranno uguali per tutti, ciascuno verrà rifornito di cibo e bestiario dal patrimonio collettivo amministrato dalle donne, la famiglia sarà abolita, i cittadini diventeranno un'unica grande comunità in cui anche le donne e i bambini saranno appunto in comune, la città sarà un'unica grande casa, verranno battuti muri e steccati reali e metaforici e dunque, questa è un'immagine peraltro che si ritrova tal quale nella Callipolis di Platone, della Repubblica di Platone, è disfuggita, si dice anche che in futuro solo gli schiavi, solo gli schiavi dovranno eseguire i lavori necessari, quindi per i cittadini si prospetta una vita piacevolmente oziosa, quindi gli schiavi ci sono e i cittadini invece vivranno nell'ozio. In realtà dopo breve tempo nel corso della commedia risulta chiaro che la parte più smaliziata della popolazione, che è scettica di fronte a questa nuova organizzazione, intende trarre profitto, avvantaggiarsi diciamo di questa situazione, ma non vuole fare alcuna rinuncia personale, per cui in un susseguirsi di scene paradossali, Aristofane mostra le conseguenze di questa società organizzata dalle donne con le sue grottesche norme sulle relazioni sessuali e infine fa terminare nell'assurdo l'intero progetto, quando invece del banchetto collettivo, diciamo del pasto comune che tutti si aspettano nella forma di una grande focaccia, un'enorme focaccia piena di ogni leccornia, anche qui una scena, ci si aspetterebbe una scena da paesi di Cuccagna, viene invece servita una ordinaria passata di legumi. Ascoltiamo il programma politico di Prassagora nelle parole di Aristofane. Sono sicura di insegnarvi cose utili, ma gli spettatori vorranno buttarsi in acque nuove, non continuare a sguazzare in quelle vecchie e conosciute? Questa è la mia paura più grossa. Quanto alle acque nuove, nessuna paura. Se una virtù noi abbiamo è questa, fregarcene del passato. Nessuno di voi però si metta a contraddire o a interrompere prima di essere al corrente del mio piano e sentire le spiegazioni. Propongo dunque che noi si faccia una società in comune di cui tutti si servano per vivere, e non che uno sia ricco e l'altro miserabile, che uno abbia terra a non finire l'altro neanche per la tomba, che uno abbia un branco di servi e l'altro nemmeno un aiuto. I mezzi per vivere dovranno essere comuni e uguali per tutti. Ma come fanno a essere comuni? No, per Dio, mi interrompi prima del tempo! Lo stavo proprio spiegando. Primo, intendo che la terra sia comune a tutti, e così i soldi e ogni cosa che ha la gente. Una volta messi in comune tutti i beni, vi diamo noi da mangiare, vi amministriamo, faremo economia e agguzzeremo l'ingegno. E chi di noi possiede non terra ma danari e zecchini, che ne sarà di queste ricchezze? E queste le porterà all'ammasso. E se non le porta, come giurasse il falso, ma proprio per questo le ha fatte. Non gli serviranno niente di niente. E per quale motivo? Nessuno farà niente per miseria. Tutti avranno tutto. Pane, baccalà, focacce, mantelli, vino, corone, ceci. Che ci guadagnerebbe a non consegnarle? Spiegalo tu se ci riesci. Ma anche oggi rubano più quelli che hanno. Una volta, amico, quando usavamo le leggi di una volta. Adesso, giacché si vivrà in comune, che guadagno a non consegnarle? Ma se uno vede una ragazza e ha voglia di scoparla, le può fare un regalo dai fondi comuni, così lui ci dorme e la comunità paga. Ma no, può dormirci gratis. Anche loro le socializzo. Chiunque vuole può dormirci assieme e fare figli. Come eviti allora che tutti corrano dalla più giovane e cercano di sbattersela loro? Le più brutte laide dormiranno vicino alle belle. Chi ne vuole una, prima, deve sbattersi la brutta. E come facciamo noi vecchi? Se andiamo con le brutte, l'affare ci molla prima di arrivarci dove sei tu. Non faranno storie. Non ti preoccupare. Non avere paura. Non faranno storie. Le storie. Per non aver dormito con te. A te del resto ti va bene. Per parte vostra la pensata è buona. Avete provveduto in anticipo. Nessun buco resterà vuoto. Ma per gli uomini? Come si fa? I più brutti non li vorranno. Si butteranno sui belli. Ai belli ci penseranno i più brutti. Quando escono dai banchetti li devono spiare sotto tutti i portici. Alle donne non sarà permesso di dormire con chi è bello e carino prima di aver accontentato quelli brutti e rincaniti. Sentirai che risate in faccia ai belli imbusti ingioiellati quando uno zoccoli ai piedi gli dice Per primo fatti in là e poi resta a guardare. Quando io mi sono spicciato ti lascio il secondo giro. Ma con un andazzo simile come farà uno a riconoscere i figli suoi? Ma che bisogno c'è? Come padri tutti calcoleranno quelli che sono più vecchi secondo gli anni. Finisce che li accoppano tutti i vecchi uno dopo l'altro. Non si riconoscono. Li accoppano adesso i loro padri e sanno chi è. Che succederà quando sono sconosciuti? Gli cacano in faccia. Ma chi si trovasse presente non lo permette. Una volta non gliene importava niente se un estraneo menava ammazzate. Oggi sentisse suonare qualcuno per paura che le prenda il suo affronta subito il malfattore. Tutto sommato non dici male. Però se mi avvicina Epicuro o Leucolofo e mi chiama papà mi tocca sentire l'infamia. Ci sarebbe una cosa più brutta semmai. Quale? Che ti volesse baciare a ristillo il coprofago con la scusa che sei suo padre. Lo faccio strillare come un'aquila io. Un bello odore di menta avrai. Ma no, ma no. Lui è nato prima di questa legge. Nessuna paura che ti baci. Avrebbe uno schifo. Ma la terra? Chi si mette a coltivarla? Mi servi. Quando scocca mezzogiorno non avrai altro pensiero che lavarti e andare a mangiare. E i mantelli? Come ce li procuriamo? Pure questo deve essere spiegato. Per cominciare quelli che avete basteranno e gli altri penseremo noi attesserli. Una domanda ancora. Se uno perde una causa in tribunale, che succede? Come fa a pagarla? Con i soldi della comunità non è giusto. Primo, non ci saranno cause. Una notizia che ti rovina. Pensavo anch'io così. Ma per quale ragione imbecille ce ne dovrebbero essere? Hai volga, per Dio. Una prima di tutte. Basta rifiutarsi di pagare un debito. Ma come fanno a esserci creditori se tutti i beni sono socializzati? Sarebbe un vero furto. Per Dio, come spieghi pena? Spiegami questo, invece. Come fa a pagare per la prepotenza spaccata chi fa dopo un banchetto a ammazzate? Questo mi pare un problema. Paga con la razione del pane. Quando uno ci deve rinunziare, ne passa la voglia di rifare il prepotente. Paga con la pancia. E non ci saranno più ladri? Rubare? Quando uno ne ha già. E non ti scippano più la notte? No, basta che dormi a casa. Ma neanche se dormi fuori, come una volta, tutti avranno da vivere. Se uno ti strappa il mantello, mollalo da solo. Per quale motivo resistere? Vai e se ne prende un altro al deposito. Meglio di quello. A Dadi non giocheranno più gli uomini? E che si dovrebbero giocare. Ma che vita ci farai vivere? Uguale per tutti. Della città voglio fare una casa comune. Giù i tramezzi, circolazione libera per tutti. Dunque, in questo scenario utopico, con questa mescolanza di motivi diversi, nel mondo alla rovescia, al paese di Cuccagna, dicevo, questo scenario utopico che non è appunto ambientato in un luogo immaginario, ma nell'Atene del proprio tempo, fanno da sfondo, che fa da sfondo la risolante situazione socio-economica post-bellica, cioè di un'Atene che è uscita a pezzi, diciamo, dalla guerra del pedofonneso. E Aristofane, peraltro, si inserisce, diciamo, in un dibattito politico-filosofico molto attuale in quegli anni relativo al tradizionale ruolo della donna, alla forma convenzionale della convivenza matrimoniale, anche alla convenienza, all'opportunità della proprietà privata. E dunque, Aristofane porta sulla scena questa utopia del comunismo, dei beni e del sesso, non solo per riderne, dimostrandone l'inconciliabilità con l'organizzazione della società attuale, ma anche per dimostrare che piani ambiziosi come questi, per realizzare un nuovo ordine e, agli occhi dei loro promotori, anche più giusto, non possono avere ragione della realtà dei comportamenti umani. Ma torniamo a parlare dei schiavitù, perché abbiamo visto che persino nella società utopica delineata da Prasagora, gli schiavi, come dicevo prima, sono un fatto indiscutibile, ineludibile. Pochi storici, evidentemente, esiterebbero a riconoscere nella schiavitù una caratteristica essenziale dell'ordine sociale della Grecia antica e, in particolare di Atene, la cosiddetta schiavitù, merce, la chattel slavery, definizione che, appunto, si riferisce alla natura di oggetto, oggetto di proprietà alienabile e commerciabile, a prescindere dalla propria volontà, che è proprio, appunto, degli schiavi, è un concetto che si è sviluppato, quello della schiavitù, merce, nella Grecia classica e proprio ad Atene, fino ad assumere proporzioni senza precedenti, riconoscono lo storico, e a legittimare la teoria aristotelica della schiavitù naturale. Ascoltiamola questa teoria in una delle sue formulazioni più celebri, tratta ancora dal primo libro della politica di Aristotele. Quale sia la natura dello schiavo e quale la sua funzione è chiaro da queste considerazioni. Chi per natura non appartiene a sé, ma a un altro, pur essendo uomo, è uno schiavo per natura e appartiene a un altro, quell'uomo che, pur essendo uomo, è oggetto di proprietà, ed è oggetto di proprietà uno strumento che serve all'azione e che è separato da chi lo possiede. Nella commedia, nell'Ecclesia Zusa, è la commedia di cui parlavamo prima, proprio nella scena successiva a quella che abbiamo poco fa ascoltato, trova spazio una sequenza drammaturgica che presenta significative affinità con lo scenario favoloso che abbiamo visto descritto tanto da Aristotele nel passo della politica che abbiamo sentito all'inizio, quanto da Cratete nel frammento delle bestie. Si tratta in particolare dell'inizio della scena, quindi una scenetta diciamo che prelude la scena principale, una scena che segue l'esposizione del programma comunistico al femminile da parte di Prassagora. In questa scenetta, di cui ora appunto ascolteremo uno stralcio, prende la parola un uomo, un cittadino che, diciamo, la cui identità peraltro è anche controversa, potrebbe essere un cittadino cosiddetto leale al nuovo regime, potrebbe essere lo stesso Cremete che aveva interloquito prima con Blepiro, con marito e moglie, diciamo con Blepiro e Prassagora durante l'esposizione del programma politico e quello che ci interessa è che questo personaggio, forse Cremete, viene ritratto nel momento in cui ordina ai suoi due servi di casa di portare i propri beni fuori casa per farne l'inventario e per consegnarli alla comunità, perché lui appunto eligio diciamo alla nuova legge insaurata appunto dal programma politico di Prassagora. E dunque, in osservanza alle nuove leggi, lui attua questa, diciamo, traslazione, questo sfruttamento dal dentro al fuori, dallo spazio retroscenico allo spazio scenico, traslazione che viene trasfigurata in una sorta di parodia della processione delle panatenee, una processione che noi ricostruiamo dal fregio panatenaico appunto del Partenone e in ogni caso diciamo in questa processione di oggetti cremete, quest'uomo, si rivolge ad alcuni degli oggetti dei propri beni, delle proprie suppellettili personificandole, alcune di queste li personifica, altre no e diciamo li tratta comunque, li promuove al ruolo di officianti del rito della processione delle panatenee. Ascoltiamo come cremete apostrofa le proprie masterizie prima di fare altre considerazioni. Vieni qua, tesoro mio, la mia favorita, su, brava, farai tu la canefora, ti sei consumata tutta a furia di rivoltare sacchi di farina uno dopo l'altro. Dov'è quella che porta la sedia? Pignatta, vieni qua fuori, per Dio sei nera, neanche ci avessi bollito gli intrulli che gli sicrate si tinge i capelli. Mettiti vicino a quella, vieni qua, parrucchiera e porta questa secchia, prendila tu e tu, canterina mia, vieni fuori. Quante volte per andare all'assemblea di prima mattina mi hai fatto alzare ancora di notte con quel motivetto svegliarino e avanti l'altro col vassoio, porta il miele, mettici vicino i ramoscelli e porta fuori anche i due tripodi e l'ampolla. I pentolini e la cianfrusaglia lasciali stare. Ora, è notevole che queste due commedie pur nella diversità diciamo di prospettiva che abbiamo delineato all'inizio cioè le bestie di Cratete a distanza di vari decenni che le bestie di Cratete furono portate in scena all'inizio degli anni venti del quinto secolo e le ecclesi azzuse di Aristofane appunto all'inizio degli anni novanta del quarto secolo queste due commedie pure così distanti affrontino un problema comune cioè ogni tentativo di fondare una società ideale non può non prevedere la rimozione e l'abolizione del lavoro anche se abbiamo visto che l'essenzione ai servi di questa esenzione dal lavoro che si prefigurava nel frammento di Cratete delle bestie di Cratete e anche probabilmente nelle altre commedie utopiche diciamo che noi conosciamo solo per frammenti non è presa invece in considerazione da Aristofane né nell'ecclesi azzuse né in nessun'altra delle sue commedie e proprio questa scenetta dell'inventario diciamo delle suppellettili che abbiamo ascoltato dimostra che appunto le suppellettili vengono portate in scena dai due servi i quali si alternano l'uno dopo l'altro sulla scena portando appunto gli oggetti nominati anche se il padrone di questi oggetti di volta in volta si rivolge in maniera un po' anomala a questi oggetti cioè a volte apostrofa inveisce addirittura contro i propri servi invitandoli a portare fuori gli oggetti altre volte personifica gli oggetti stessi e quindi c'è una sorta di alternanza tra personificazione degli oggetti quella personificazione che li rendeva su pelletti di semoventi già da Cratete già dal frammento comico di Cratete e reificazione quindi gli oggetti sono di volta in volta animati o inanimati in un'alternanza abbastanza spiazzante anche questa evidentemente surreale a testimonianza della totale intercambiabilità della piena osmosi tra oggetti e servi questa rimozione della distinzione tra l'oggetto e il servo che lo porta diciamo nella mentalità antica si traduceva peraltro nell'assegnazione agli schiavi dei nomi delle cose alle quali erano addetti gli schiavi stessi per esempio nomi di oggetti da toletta o vestiti oggetti di uso venivano attribuiti agli schiavi che se ne occupavano ci sono dei paralleli anche nelle diciamo nella filmografia persino nella fumettistica moderna non so per esempio nel film di Walt Disney La Bella e la Bestia sarà noto credo a tutti appunto c'è il maleficio che trasforma in oggetti i servi di casa che diventano il candelabro la teiera la tazza oppure non so nella spada della roccia c'è il lavaggio magico delle stoviglie l'abito la magica confezione dell'abito di Cenerentola nella fiaba di Cenerentola cioè si tratta appunto di diciamo motivi comici o fiabeschi che hanno poi avuto fortuna ovviamente anche nella cultura moderna ora questo nesso oggetti schiavi e in particolare l'equazione di schiavo come oggetto animato è anche alla base del ragionamento che Aristotele fa ancora una volta sulla origine naturale della condizione dello schiavo nel primo libro appunto della politica e qui a proposito della natura e del ruolo degli schiavi nell'economia domestica proprio poco prima della sezione del diciamo da cui è tratto il primo dei brani che abbiamo ascoltato il contesto come vedete sempre lo stesso Aristotele distingue nell'ambito degli organa diciamo degli strumenti necessari alla conduzione della casa quelli animati e quelli inanimati è precisa che lo schiavo costituisce fa parte della seconda categoria odulos tema quindi un possesso e una proprietà empsicon animata quindi un oggetto animato di proprietà quindi alienabile commerciale da parte del proprietario e quindi non stupisce che Aristofane sfrutti diciamo un nesso che era presente non solo nella comedia ma anche nella mentalità e nella lingua comune e che lo porti alle estreme conseguenze comiche consentendo quindi a questo personaggio sulla scena di non fare distinzione a livello verbale tra schiavi che portano gli oggetti e oggetti sessi che vengono di volta in volta personificati oppure no quindi diciamo in ogni caso va da sé che la presenza stessa degli schiavi di questi due schiavi che portano fuori gli oggetti ci conferma che in questa commedia ma in generale in tutte le commedie di Aristofane non c'è spazio per una franca l'esercamento degli schiavi abbiamo sentito prima nella scena in cui Prasagora esponeva il suo programma politico che alla domanda di Blepiro che chiedeva la terra chi la lavorerà Prasagora risponde gli schiavi la tua unica occupazione sarà allora dei passi farti bello e andare a mangiare anche però nel Pluto che è l'ultima commedia diciamo su Persia e di Aristofane ed è anche cronologicamente vicina alle crisi azuse commedia che ugualmente si conclude con l'isaurazione di un ordine socio-economico diciamo diverso in certa misura utopico anche questo l'istituto della schiavitù da Aristofane non viene mai messo in discussione la trama del Pluto è estremamente lineare estremamente semplice abbiamo un vecchio contadino ateniese cremilo che è onesto ma povero che si imbatte nel dio della ricchezza Pluto che è cieco perché da ragazzo era stato cercato da Zeus perché in modo da non poter riconoscere chi fossero i buoni chi fossero gli onesti chi fossero i disonesti questa è la storia che mi viene raccontata e diciamo a questo punto cremilo che è onesto ma povero e si chiede come poter garantire un futuro solido diciamo al proprio figlio diciamo vede che peraltro vede arricchirsi intorno a lui i farabuti i disonesti decide di aiutarlo a recuperare di aiutare il dio della ricchezza Pluto a recuperare la vista conducendo dal tempio di Asclepio il dio della medicina e lì lo sottopone a una pratica religiosa magico-religiosa che è quella dell'incubazio cioè trascorre una notte nel tempio di Asclepio dove svolge dei rituali terapeutici miracolosi e recupera appunto la vista viene guarito dalla sua cecità una volta recuperata la vista Pluto viene accolto nella modesta dimora del povero cremilo lo ricopre di ogni sorta di doni ma tu tanti altri personaggi diciamo che compaiono diciamo nella seconda parte della comedia beneficiano dei vantaggi di questa nuova situazione per cui non so c'è la figura dell'uomo giusto il cittadino giusto che recupera i beni che aveva perduto ingiustamente per converso il sicofante il cadugnatore di professione perde i beni che aveva acquisito ingiustamente una vecchia una vecchia megera viene abbandonata dal suo gigolò che appunto diciamo non ha ormai più bisogno delle sue ricchezze quindi non è costretto a offrirle i suoi favori sessuali persino gli dei sono ridotti alla fame perché gli uomini non hanno più bisogno di tributare i loro tributare loro appunto dei sacrifici e tuttavia in una scena nodale per la comprensione della comedia che è lagone lagone il confronto dialettico che si svolge tra mettendo diciamo in contraposizione i punti di vista opposti di cremilo che ha fatto recuperare la vista a pluto e penia che è la personificazione della povertà in questa scena diciamo in questo agone emerge in tutta la sua criticità diciamo viene messa a nudo la problematicità di questo nuovo sistema alla domanda di penia personificazione della povertà chi lavorerà per tornare alla domanda diciamo di prima cremilo risponde tutte le fatiche tutti i mestieri che ha elencato prima il fabbro il calzolaio il costruttore di carri insomma tutta una serie di professioni artigianali tutta questa sfilza di attività diciamo le svolgeranno gli schiavi quindi ancora una volta l'esistenza degli schiavi non viene messa in discussione neanche in questo nuovo ordine anch'esso a suo modo utopico e tuttavia diciamo quello che era stato semplicemente uno scambio di battute tra marito e moglie nell'Ecclesia Azuse diventa diciamo qui diventa un punto critico appunto nodale per interpretazione del sesso della commedia perché si va avanti in questo dibattito di chi lavorerà lavoreranno i servi i servi da dove si prenderanno come ci si accaparrerà i servi se tutti sono diventati ricchi allora in sostanza nelle parole che ascolteremo tra poco viene emerge diciamo un paradosso abbastanza inquietante cioè se anche perdurasse il lavoro servile perché il lavoro servile non viene messo in discussione come ci si può procurare gli schiavi perché quello che viene detto appunto da povertà da penia appunto è che nessun uomo libero sarà più disposto essendo diventato ricco a sobbarcarsi la fatica e il rischio del commercio degli schiavi e perché appunto tutti saranno ricchi ora le obiezioni di questa appunto del personaggio di povertà della personificazione di povertà sembrano togliere ogni spazio all'utopia della ricchezza persino mantenendo il lavoro servile la nuova società non potrà funzionare e cremilo cremilo sarà costretto a svolgere da solo i lavori agricoli quelli che prima svolgevano i suoi servi la fine della necessità del lavoro libero porterebbe all'impossibilità di servirsi del lavoro servile il che a sua volta costringerebbe paradossalmente a reintrodurre il lavoro libero questo è il paradosso che diciamo che viene fuori che emerge da questo punto confronto dialettico tra cremilo e povertà come si capirà ponendo attenzione alle battute più pregnanti di questo scambio dialettico le argomentazioni di povertà sono l'inutilità della ricchezza in un mondo in cui tutti sono ricchi e quindi nessuno lavorerà più la differenza tra povertà e indigenza cioè la povertà è un valore positivo l'indigenza è un valore diciamo negativo la povertà è degli uomini migliori fisicamente e moralmente laddove invece l'indigenza li prostra queste argomentazioni sembrano effettivamente avere anche una base di realtà richiamarsi a un principio di realtà e in generale povertà il personaggio di povertà che parla per seconda in questo agone si trova e già solo per questo si trova in una posizione di vantaggio sottolinea più volte il fatto che cremilo dialetticamente non riesca a confutarla ma si limiti a scherzare a fare battute a scagliare in vettiva e insultarla di fatto tuttavia queste argomentazioni di povertà diventano del personaggio appunto della personificazione della povertà diventano sempre più deboli sempre più sofistiche decettive diciamo se non addirittura assurde fino ad arrivare al rovesciamento finale in cui la povertà viene liquidata in malomodo da cremilo senza però che quest'ultimo possa dirsi vittorioso sul piano dialettico e sul piano razionale e infatti è emblematica l'ultima battuta di cremilo che ascolteremo ora tu penia non mi convinci anche se mi convinci prego vi tocca parlare come si deve ormai la dovete vincere l'accidente con ragioni forti punto per punto senza mollare un capello una verità credo la riconoscono tutti senza eccezione giustizia esige che la gente onesta se la passi bene il contrario invece per i mascalzoni e senza fede noi siamo riusciti a trovare un sistema per realizzare questo principio bello nobile utile sotto ogni aspetto basta che Pluto torna a vedere e non sbatte in giro senza gli occhi allora andà a trovare solo i gallantuomini non li molla più dai mascalzoni e i miscredenti deve scappare sempre invece la conseguenza diventeranno tutti onesti ormai sono ricchi nonché timorati di Dio una scoperta più di questa chi gliela passa agli uomini come oggi campa l'umanità chi non direbbe che è una pazzia anzi una disdetta maligna gli uomini buona parte sono mascalzoni arricchiscono fanno i soldi ingiustamente molti invece i veri i gallantuomini soffrono e fanno la fame in tua compagnia quasi sempre per questo affermo che se Pluto torna a vedere questa qui è finita l'unica via per assicurare agli uomini il massimo della felicità vi date la mano a dire sciocchezze simili non ci guadagnate anche se capitasse quello che vi augurate ma ve l'assicuro se Pluto torna a vedere e si distribuisce in parti uguali a nessuno importa più né arte né parte se voi abolite queste due cose chi vorrà più fare il fabbro il falegname il sarto il carradore lo scarparo il muratore il lavandaio il tintore chi vorrebbe della terra infrangere la dura crosta con gli aratri e mietere di Demetra i frutti quando uno potrebbe stare senza far niente fregandosene di tutte queste cose chiacchiere e poi chiacchiere per la sfilza che hai nominato sgobberanno i servi e dove li pigli? i servi con i soldi li compriamo primo chi si mette a venderli quando soldi ne ha pure lui uno che voglia guadagnare l'importa dalla tessaglia da mafiosi né negrieri a ragionare come te di negrieri per cominciare neanche l'ombra ne resta uno che è ricco si mette a fare questo e rischia la propria vita vedrai finirà che devi arare tu stesso zappare buttare il sangue per tutto una vita peggio di adesso ti aspetta alla faccia tua e neanche su un letto potrai dormire dove li peschi né sui materassi chi pensa a farli quando ci sono soldi niente profumi per la sposa al giorno del matrimonio niente abito per la cerimonia tutto colorato povera lei che ne farai della ricchezza quando manca tutto questo per merito mio invece qualunque cosa vi serve potete averla sono io che costringo gli artigiani a sgobbare per vivere implacabile padrona con l'arma del bisogno della povertà tu i piaceri che ci sai procurare scottature a chi tenta di scaldarsi a sbafo nei bagni pubblici strelli di bambini affamati di vecchie miserabili le torme di pidocchi di zanzare di pulcino non le nomino per chi le conta sibili sulla faccia ci straziano ci svegliano ricordano alzati subito che se no crepi di fame aggiungi invece del mantello avere uno straccio invece del letto un giaciglio impagliato pieno di cimici da levare il sonno invece del materasso una stuoia fratica invece del cuscino un bel macigno sotto la faccia invece del pane sfamarsi con ciuffi di malva invece di pasta testa di rape secche invece di sgabello un culo di orcio rotto invece della madia un pezzo di giara sfasciata pure quella i benefici che ricava l'umanità per merito tuo eccoli dimostrati tu non hai parlato della mia vita ce l'hai con quella dei pezzenti è lo stesso pezzenteria è sorella della povertà si dice sì per voi che trovate Dionigi uguale a Trasipulo la mia vita per Dio mai patito roba simile né adesso né poi la vita del pezzente quella che dici tu è vivere senza niente la vita del povero invece c'è vivere con parsimonia dedicandosi al lavoro niente privazioni ma anche senza cose superfule o una vita ideale per Demetra dici quella del povero sudi risparmi e non ne lasci neanche rifunerale la butta a ridere come fosse una commedia non fa sul serio dovrebbe riconoscere che gli uomini io li miglioro più di Pluto silhouette e cervelletto con lui arrivano gotta pancia sedere un grasso indecente con me invece tutti asciutti vitino di vespa e dolori per i nemici si capisce vita di vespa con te fanno la fame quanto poi alla moderazione passo a dimostrarvi che il garbo sta a casa da me gli stravizi appartengono a Pluto bel garbo rubare scassinare le case guarda un po' i deputati delle città quando sono poveri nessuno più onesto col popolo con lo stato diventano ricchi a spese di tutti fanno subito i disonesti congiurano contro lo stato alla faccia del popolo su questo bugie non ne dici e sei la calunnia in persona ma devi pagare lo stesso è inutile che canti vittoria cercare di convincere noi che la povertà è meglio della ricchezza su questo neanche tu e riesci a battermi cangotti starnazzi e allora perché ti scansano tutti quanti perché li faccio migliori si può vedere dai ragazzi col padre non se la dicono l'unico che pensa al loro bene è proprio difficile distinguere il bene secondo te allora nemmeno Zeus saprebbe distinguere il meglio perché è ricco ma che vecchio imbecille hai la muffa nel cervello perfino Zeus invece è povero non ci metto niente a spiegartelo se era ricco perché ai giochi olimpici li ha fatti lui ci riunisce tutti i greci ogni quattro anni perché i vincitori delle gare li consacra con una bella corona di oleastro dovrebbe essere d'oro per Dio se fosse ricco e con questo dimostrerebbe rispetto per la ricchezza è uno spilorcio non si vuole sprecare ai vincitori rifi la roba da niente la ricchezza se la tiene a casa sua un vizio anche peggiore della povertà cerchi di affibiargli lui ricco magretto e per giunta avaro Zeus ti dovrebbe accecare te e la bella corona di oleastro vorreste negare che tutti i beni derivano dalla povertà va a chiederlo a Ecate se è meglio essere ricchi o squatrinati te lo dice lei ricchi e benestanti le mandano un pranzo ogni mese i poveri lo sgraffiniano prima che venga offerto basta non fiatare crepa non mi convinci neppure se mi avessi convinto più o meno negli stessi anni in cui Aristofane diciamo rifletteva comicamente su su queste diciamo sull'utopia di un mondo diverso Platone elaborava l'idea della sua Callipolis del progetto di un corpo sociale atenese utopico che sviluppa poi nel quinto libro della Repubblica allora nella Callipolis di Platone chi sono i soggetti gli unici soggetti veramente dispensati da qualunque attività lavorativa ebbene sono quella elite di guardiani o guerrieri che sono addetti al compito della difesa dello stato ideale appunto e loro appunto vivono in condizioni anche loro di uguaglianza dei sessi senza proprietà privata senza proprietà personale con donne e bambini in comune cioè gli stessi punti che abbiamo visti enunciati diciamo da Prassagora nelle ecclesi assuse e vivono felicemente praticando la musiche e le attività ginniche e vivono secondo giustizia felicemente sotto la guida politica dei filosofi che dalle fila della classe dei guardiani sono ascesi appunto alla guida dello stato e che sono diciamo quelli che Platone definisce non solo nella repubblica ma anche nel gorgia nel politico i medici i soli medici che possono guarire la città dai suoi malisi perché per Platone la polis ateniese uscita sconfitta e impoverita dalla guerra del Peloponneso dilaniata dalla stasis dal conflitto civile è malata è un organismo malato dunque chi lavora nella callipolis ideale di Platone gli unici che lavorano sono i banausoi i lavoratori manuali quelli che Platone già nel terzo libro della repubblica aveva definito la stirpe bronze alla stirpe di bronzo Platone ricorre a un mito di sapore esiodeo e distingue appunto gli uomini fa nascere gli uomini dalla terra e li ripartisce in tre classi quelle appunto le classi sociali della sua callipolis ideale che sono la stirpe dei filosofi che sono la stirpe aurea quella dei guardiani o dei guerrieri sirpe d'argento e i banausoi diciamo i lavoratori che sono la stirpe di bronzo dunque i banausoi i lavoratori sono i detentori di una tecne ciascuno a suo modo e tecne è uno dei termini diciamo con più alta frequenza usati con più alta frequenza nei dialoghi di Platone l'atteggiamento di Platone verso le tecniche è tutt'altro che diciamo sbrigativo frettoloso perché egli era ben consapevole della stretta connessione che intercorre tra la riflessione sulla tecnica e i temi filosoficamente nobili della teoria delle idee e della dialettica e questo spiega anche l'importanza che il dibattito sulle tecniche in generale è rivestito tra quinto e quarto secolo ad Atene il concetto di tecne implica per Platone una delimitazione del campo e una divisione del lavoro in quanto tale costituisce la vera cerniera tra la politica e la filosofia ora i primi dialoghi platonici sono concordi nel presentare una valutazione positiva delle tecnai delle tecniche del resto a vent'anni Platone era diventato allievo di Socrate Socrate aveva sempre avuto una posizione positiva fiduciosa nei confronti dei tecnici e gli stesso era figlio di uno scultore di una levatrice e aveva svolto la propria attività di diciamo filosofo divulgatore del proprio pensiero nelle officine nelle botteghe nel mercato insomma in pubblico in un continuo contatto con artigiani commercianti e Socrate non solo frequentava gli artigiani commercianti i tecnici in generale ma ne parlava continuamente faceva ricorso continuamente a metafore tratte dal mondo diciamo del lavoro dell'artigianato del lavoro libero del commercio e li apprezzava moltissimo apprezzava in generale quelli che sanno cosa fare cosa è giusto fare possono darne ragione gli artigiani sono l'esemplificazione vivente di questa capacità di questa competenza sanno fare qualcosa di utile la competenza è garanzia della qualità del loro lavoro qualità che viene misurata dagli oggetti che i lavoratori poi producono questa concezione delle tecniche spiega la genesi e il significato anche della tesi socratica per cui la virtù è una scienza tesi che era il risultato diciamo di una ovvia constatazione cioè chi vuole imparare la tecnica per esempio di lavorare il cuoio o altre tecniche artigianali sa da chi recarsi per apprenderle mentre si ignora da chi andare quando si vuole apprendere come fare attività politica ebbene tutta la riflessione filosofica di Socrate come ovvio come a noi viene consegnata dagli scritti di Platone si diciamo si aggrofiglia attorno a questo grosso interrogativo come mai perché quello che vale nel campo delle tecniche del lavoro insomma del lavoro artigianale manuale non vale anche in campo etico politico diciamo così ora il brano che ascolteremo è tratto dal Protagora uno dei dialoghi giovanili appunto di Platone in cui egli fissa il programma di gran parte della sua opera filosofica successiva e solleva problemi relativi alla virtù alla conoscenza all'arte della politica che poi lo occuperanno negli scritti posteriori soprattutto nella Repubblica e il contesto in cui tocca questi problemi ci dice molto della centralità del lavoro nell'ambito del discorso politico sulla democrazia in questo dialogo forse diciamo anche in maniera più accentuata che in tutto il resto della sua produzione Platone presta agli argomenti opposti un'attenzione equanime diciamo ponendo in una luce sostanzialmente favorevole il sofista Protagora che è impegnato a costruire una difesa della democrazia che è una grande diciamo una vera argomentazione sistematica a favore della democrazia nell'antichità Platone è come se diciamo il resto della sua carriera la spenderà in un'implicita confutazione delle ragioni di Protagora Protagora il sofista del quale ora ascolteremo le parole diciamo dal dialogo omonimo io vedo che quando ci raduniamo in assemblea se la città ha a che fare con questioni che riguardano la costruzione di edifici si fanno intervenire in veste di consiglieri in materia di costruzioni gli architetti se invece deve prendere qualche decisione circa la costruzione di navi si mandano a chiamare i costruttori di navi ed è lo stesso il criterio seguito quando si tratta di tutte le altre cose che essi ritengono si possano imparare e insegnare ma se prova a dar loro consigli qualcun altro che essi non stimano pratico di quel dato mestiere per quanto sia bello ricco nobile non per questo lo ascoltano ma lo deridono ed esprimono il proprio malcontento levando un gran baccano finché colui che ha tentato di parlare interrotto da quel baccano non desista per conto suo o gli arcieri non lo tirino via e lo caccino fuori per ordine dei britani così agiscono dunque in quelle questioni che essi ritengono dipendere da un'arte quando invece si tratta di decidere circa l'amministrazione della città allora si leva a dar loro consigli su tali questioni indifferentemente l'architetto il fabbro il calzolaio il mercante l'armatore il ricco il povero il nobile il plebeo e a costoro nessuno rinfaccia come invece si rinfaccia a quelli del caso precedente di mettersi a dar consigli senza prima aver imparato da qualche parte e senza aver avuto alcun maestro è chiaro che questo accade perché non la considerano cosa che si possa insegnare bene questa 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 riflessione diciamo accomuna in realtà le posizioni in questo dialogo giovanile le posizioni avvicina moltissimo le posizioni di Protagora e quelle di Socrate cioè sostanzialmente entrambi dicono la cosa è anche il suo contrario cioè da una parte dicono si dicono convinti che la virtù non sia insegnabile che non è lecito fare di questa presunta abilità di rendere diciamo fare un mestiere diciamo di questa di questa della politica insomma e dall'altra però ritengono anche che sarebbe bene invece che per praticare la politica ci fossero dei maestri laddove invece non si sa mai quando si intraprende la carriera politica non si hanno mai appunto dei maestri di riferimento diciamo che l'una sia tanto Socrate quanto Protagora diciamo pur partendo da posizioni apparentemente opposte in realtà diciamo restano interdetti tra questi due opposti modi di concepire l'arte della politica e le loro posizioni finiscono in una certa misura per convergere in particolare Protagora riconosce che proprio perché diciamo Protagora fa un elogio della democrazia riconosce che a buon diritto i cittadini atenesi ammettono democraticamente a dare consigli su questioni politiche in assemblea anche un fabbro o un calzolaio perché appunto la virtù civica non può che essere una qualità universale questa però il tempo stesso Protagora dice che questa virtù civica cioè la capacità di dare buoni consigli per la città non è innata però appunto è una qualità universale che in una certa misura può essere insegnata cioè è come è un po' come la lingua madre cioè la virtù civica la capacità di dare buoni consigli per la città è possesso una qualità universale ma anche oggetto di apprendimento come lo può essere appunto fa l'esempio appunto di una lingua madre chiaramente questa insistenza di Protagora sull'universalità della virtù è appunto funzionale la sua apologia per la della della democrazia ma al tempo stesso è anche importante la concezione del processo eh grazie al quale questa consapevolezza morale politica questa virtù politica viene trasmessa cioè la virtù è diciamo oggetto in una certa misura di insegnamento e il modello di apprendimento non è tanto la trasmissione del sapere scientifico ma piuttosto la forma dell'apprendistato cioè quello che nelle società tradizionali è il meccanismo della trasmissione intergenerazionale cioè il mezzo con cui si viene avviati alle tecniche del mondo degli adulti o alle arti pratiche dal diciamo dall'esperienza diciamo dei propri padri la posizione la posizione di Socrate da questo punto di vista non è così distante da quella di Protagora perché attraverso un lunghissimo articolato scambio dialettico all'interno di questo dialogo Socrate arriva praticamente alla stessa conclusione cioè la virtù anche la virtù politica è scienza ed è conoscenza e questo principio appunto è destinato poi a diventare il fondamento dell'attacco di Platone alla democrazia soprattutto appunto nel politico e nella repubblica Platone rimpiazza diciamo quell'apprendistato quel concetto di apprendistato morale politico di Protagora con una concezione della virtù più ispirata cioè la virtù è una conoscenza filosofica quindi non è un'assimilazione dei costumi dei valori della comunità ma è un accesso privilegiato a verità più elevate e accesso che hanno accesso diciamo al quale sono ammessi soltanto i filosofi e appunto è il governo dei filosofi in cui la differenziazione delle posizioni sociali non avviene sulla base della ricchezza come invece secondo Platone accade nelle città democratiche ma avviene secondo la competenza la specializzazione e la divisione del lavoro ebbene far valere fino in fondo l'esigenza di fondare la città sulla divisione del lavoro comportava per Platone necessariamente l'eliminazione della proprietà o almeno una sua limitazione una sua regolamentazione perciò Platone propone che i governanti siano salariati solo per un anno nella misura delle loro necessità fondamentali come ricompensa per il loro impegno politico e in questo modo sarà garantito il loro disinteresse diverso è il discorso per la classe dei bana usoi appunto per la classe dei lavoratori perché dice Platone un tecnico arricchito non vorrà più occuparsi della propria tecnica diventerà inoperoso trascorrerà il lavoro tutto al più diventerà un cattivo tecnico quindi la ricchezza è un male per l'esercizio di un lavoro di una tecnica ma d'altra parte la povertà gli impedirà di procurarsi strumenti necessari alla sua tecnica e quindi produrrà oggetti peggiori e renderà peggiori anche i propri diciamo apprendisti quindi per gli artigiani per i contadini insomma per i lavoratori liberi insisto su questo perché poi della schiavitù diciamo sulla schiavitù Platone sorvola nella Repubblica ricchezza e povertà costituiscono entrambe limiti all'efficienza delle tecniche la ricchezza elimina ogni incentivo a produrre e a produrre bene e la povertà impedendo il regolare svolgimento del processo produttivo diciamo danneggia l'intera l'intera comunità e dunque la diciamo la ricchezza e la povertà che alimentano le infrazioni le scorrettezze i tentativi di evasione di mobilità sociale ecco di evasione dai ruoli sociali appropriati perché il tecnico arricchito tende a elevarsi socialmente a cambiare lavore il tecnico impoverito tende a compiere azioni scorrette perché aspira a un mutamento della propria condizione sociale questa è la ragione per cui nella Repubblica parrebbe di capire che il possesso dei beni cioè la proprietà privata venga garantita solo alla terza classe cioè quella dei lavoratori seppure in segmento limiti diciamo consentiti alle necessità dell'esercizio delle proprie tecniche quindi l'eliminazione o la regolamentazione della proprietà privata diciamo sono funzionali alla divisione tecnica e sociale del lavoro l'individuo che fa parte di questa comunità e diciamo raggiunge un grado di felicità e diciamo è un individuo che ha una sua identità in ragione della funzione tecnica che svolge quindi lavorativa diciamo in senso lato che svolge all'interno di questa società e ognuno raggiunge il grado di felicità compatibile con la sua funzione all'interno della società nel quarto libro della Repubblica il discorso di Socrate questo discorso diciamo che fa Socrate quindi Platone per bocca di Socrate uno dei suoi principali interlocutori adimanto obietta però che i guardiani i custodi privi di denaro appunto privi di denaro e di proprietà non saranno mai felici e quindi sentiamo adesso cosa obietta appunto Platone per bocca di Socrate a questa contro obietta Platone per bocca di Socrate a questa osservazione di adimanto non costringerci ad assegnare ai guardiani una felicità tale da renderli tutt'altro che guardiani sappiamo anche cingere i contadini di lunghe vesti ricoprirli d'oro invitarli a lavorare la terra per puro diletto o far sedere comodamente i vasai accanto al fuoco perché bevano e banchettino lasciando perdere la ruota e fabbrichino vasi solo quando ne hanno voglia e concedere la stessa beatitudine a tutti gli altri in modo che sia felice l'intera città ma non rivolgerci questo rimprovero ad arretate il contadino non sarebbe più contadino né il vasaio vasaio e nessun altro conserverebbe il suo ruolo indispensabile all'esistenza della città comunque il problema di questi altri è meno importante se infatti i ciabattini si corrompessero diventando scadenti fingessero di essere ciò che non sono non sarebbe un grave danno per la città ma se i guardiani delle leggi e dello stato fossero tali solo in apparenza capisci bene che rovinerebbero tutta quanta la città al contrario essi soli hanno l'opportunità di renderla ben governata e felice se dunque noi creiamo guardiani assolutamente incapaci di fare del male alla città e il nostro detrattore li trasforma in contadini e banchettanti felici come se fossero a una festa e non in una città costù intenderà qualcosa di diverso da uno stato si deve pertanto considerare se l'istituzione dei guardiani miri a procurare loro la massima felicità o a far sì che questo beneficio ricada sulla città intera in tal caso bisogna obbligare e persuadere questi ausiliari e guardiani come pure tutti gli altri a impegnarsi perché eseguano il meglio possibile il proprio lavoro e così in una situazione di generale sviluppo e buon governo della città si deve permettere che ciascuna classe abbia la parte di felicità che le è concessa dalla natura dunque la felicità la città deve essere caratterizzata dalla felicità di tutti i suoi componenti e non soltanto da alcuni gruppi di alcuni membri se si coprissero d'oro i contadini e gli si facesse lavorare loro la terra solo per diletto il contadino non sarebbe più tale quindi non è il lavoro in funzione dell'individuo ma è l'individuo in funzione del lavoro quando gli individui infrangono l'ordine sociale l'ordine fra le tecniche cercando di cambiare i loro ruoli nascono i conflitti le infrazioni e queste infrazioni sono tanto più gravi quando riguardano i governanti il cui compito è esercitare una tecnica che garantisca la felicità a tutta la città nel suo insieme dunque la felicità è connessa alla propria funzione all'interno di questo cosmo ideale che è la Callipolis appunto di Platone quindi la Callipolis che si configura come l'inverso della democrazia teniese dove il riconoscimento dell'uguaglianza politica si accompagna proprio a una divisione fondata sui privilegi economico-sociali questa è nella visione diciamo di Platone nell'orizzonte schiavistico della cultura antica Platone sancisce anche il primato dell'uso del prodotto cioè il consumatore che sa usare il prodotto sulla sua produzione cioè allo schiavo che costruisce gli oggetti non si può riconoscere una competenza superiore a quella del padrone che se ne serve ma va precisato anche che per Platone l'uso è legittimato non dal possesso della proprietà ma dal sapere dalla competenza chi usa deve disporre di un sapore maggiore di chi produce attraverso questo parametro si può stabilire poi una gerarchia sociale questo forse spiega perché nella Repubblica raramente si parla come dicevo prima di schiavitù e a essa alla schiavitù agli schiami non si assegna alcuna attività lavorativa agricola artigianale commerciale tutte le attività sono svolte appunto dai cittadini i famosi bana usoi di cui parlavo prima eppure Platone anche Platone costruisce la sua definizione della politica virtù politica sulla base di un'analogia con le tecniche artigianali quando nell'invocare la tecne come etica della competenza artigianale fa ricorso appunto all'esperienza del cittadino lavoratore ma questa volta l'accento è posto non sulla trasmissione diciamo di una competenza comune sull'apprendistato da una generazione all'altra ma sulla specializzazione sulla competenza del lavoro l'esclusività delle competenze il che scongiura come dicevo prima la mobilità sociale cioè proprio come le scarpe migliori sono prodotte dal calzolaio esperto così l'arte della politica deve essere praticata solo da quanti ne sono specialisti quindi non più canzolaio e fabbri in assemblea questo in sostanza dice Platone l'essenza della giustizia dello Stato è rappresentata dal principio secondo cui il ciabattino non può andare non deve andare oltre la forma delle sue scarpe delle scarpe come spiega appunto nell'ultimo brano che ascolteremo ora che è tratto dal quarto libro della Repubblica la mobilità tra le classi sociali è il danno più grave per la città se non addirittura un crimine se un falegname prova a fare il lavoro del calzolaio o il calzolaio quello del falegname scambiandosi gli attrezzi e i compensi o anche se la stessa persona si mette a svolgere entrambi i mestieri e insomma si verifica uno scambio totale delle mansioni ti sembra che la cosa possa arrecare un danno grave alla città non molto rispose ma quando un artigiano o un altro individuo portato per sua natura un mestiere di lucro inorgoglitosi per la ricchezza o il numero di sostenitori o la forza o un altro motivo del genere cerca di entrare nella classe dei guerrieri o un guerriero cerca di entrare in quella dei consiglieri e dei guardiani senza esserne degno e costoro si scambiano gli strumenti i compiti o quando la stessa persona tenta di fare tutte queste cose contemporaneamente allora sembra anche a te credo che questo loro scambio di ruoli questo loro darsi tanto da fare sia una rovina per la città senza alcun dubbio quindi lo scambio reciproco delle tre classi il loro impegno in troppe faccende è il danno più grave per la città e più di ogni altra cosa si può a buon diritto definire un crimine bene tanto Protagora quanto Platone come abbiamo sentito propongono al centro del loro ragionamento politico seppure con intendimenti opposti i valori della tecne della tecnica le arti pratiche del cittadino lavoratore e gran parte di tutto quello che seguirà nella tradizione filosofico occidentale successiva prende le mosse da questo punto di partenza e la filosofia politico occidentale deve le sue origini proprio a questo conflitto circa il ruolo politico che in una comunità democratica devono avere i calzolai e i fabbri democratica o no a seconda diciamo della visione di Protagora di quella di Platone per Platone la separazione tra i detentori del potere e i lavoratori tra quanti lavorano con la mente e quanti lavorano con le mani tra quelli che sono al potere e vengono mantenuti da chi lavora e quelli che producono e vengono governati ma restano esclusi dalla politica per Platone questa è l'essenza diciamo della sua teoria della conoscenza è l'essenza dell'utopia politica della sua Callipolis ma in generale credo che questa sia anche l'essenza di tutto il dibattito politico diciamo tutta la riflessione diciamo della filosofia occidentale diciamo antica e moderna sul tema della partecipazione della comunità alla vita politica grazie 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 grazie